Buongiorno, oggi un po' di tonificazione. Apriamo bene le gambe, contratti gli addominali, stretti i glutei, leggermente piegati le ginocchia e partiamo. E 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e vai la seconda serie. E 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e alterno. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, e vai alzate frontali. 8, e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e la seconda serie. e 8, e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, rimani in alto. apri, chiudo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, 4, tre, due, ok, scendo sui gomiti, otto e sette e sei e cinque e quattro e tre, e due, ancora otto e sette e sei e cinque e quattro e tre e due, rimani piccolo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, vai, dorsali, e otto e sette e sei e cinque e quattro e tre e due, ne facciamo altri otto e otto e sette e sei e cinque e quattro e tre e due, vai piccoli e otto e sette e sei e cinque e quattro e tre e due, vai, pettorali, e otto e sette e sei e cinque e quattro e tre e due, seconda e due, seconda e due, vai, e otto e sette e sei e cinque e quattro e tre, e due, cinque e cinque e cinque e quattro e tre e due e vai, 2, alterno, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani su apri e chiudi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vai. Sui gomiti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vai. Vai, dorsali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vettorali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Chiudo, rilasso un attimo e sciolgo bene. Adesso spalle, bene davanti la gamba destra, questo braccio appoggiato qua. In due tempi sollevo e in due tempi scendo, vai. e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2. e vai, la seconda serie, e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3. e 4, e 5, e 6, e 6, e 5, e 4. e 4, e 3, e 4, e 3, e 4, e 3, e 2. Rimani in alto piccolino. e 8, e 8, e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 4, e 3, e 2, ancora 8, gli ultimi. e 8, e 8, e 7, e 8, e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 4, e 3, e 2, e l'ultimo sciolgo. e 3, e 4, e 4, e 4, e 3, e 5, e 4, e 4, e 3, e 4, e 5. e 3, e 2, e seconda serie, e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e vai, la terza e ultima serie, e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, rimango subito, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e gli ultimi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e sciolgo, ok, tiriamo un attimo, qua la mano, fuori il braccio, scende verso il basso e spinge, teniamo qualche istante, cambio, spingi, cambio, fuori, giù la spalla, cambio, sciolgo bene, ok, un po' di affondo, bene bene, su avanti la gamba destra, dietro la sinistra, sollevo bene il tallone, piede un pochino più avanti del ginocchio, piede un pochino più avanti del ginocchio, belli dritti, iniziamo, piegando la gamba dietro, scendere bene in verticale, e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e 3, e 2, e vai con la seconda serie, e 8, e 7, e 6, e 5, e 5, e 3, e 2, e vai la terza serie, con la seconda serie, e 7, e 6, e 2, e 2, e 2, e 3, 3, 2, rimane basso giù giù giù, tengo 8, 7, 6, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3, 2, e sciolgo. Ok. Tiro un attimo, gluteo e tallone, retroversione, ginocchia vicina e gambe l'appoggio leggermente piegata. Tiro bene. E cambio gamba. Ok. E parto. E 8, e 7, e 6, e 5, e 7. E 4, e 3, e 2, e vai la seconda serie. E 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3. E 5, e 5, e 5, e 6, e 5. 5, e 4, e 3, e 2, e tieni giù, tengo, e 8, e 7. 6, e 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 7, 6, e 7, 7, 7, 7, 8, 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 8 e stop tiro tallone al gluteo retroversione dentro venire gli addominali gambe in appoggio leggermente bigata vicino le ginocchia ok adesso un po' di sfotte piedi in parallelo bella apertura anche qua vado bene dietro 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 gritta la schiena dominare i contratti e parto scendo lentamente salgo ma non troppo tutto il peso è sui talloni le punte si sollevano leggermente piano lento tengo respiro bene scura vai giù giunto un attimo è troppo sui stati bassi bene ocula po' qui no Vai Vai Udine Vai 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 Udine Respiro lentamente Sollevo il tallone sinistro e tengo Tengo, tengo, tengo Cambio Sollevo il tallone destro e tengo Vai Gli ultimi Tutte e due i talloni giù Tengo, tengo, tengo Bassi, bassi Dentro gli addominali Ok E sciolgo Partiamo con gli addominali Mani dietro la testa Fate finta di avere una pallina sotto il mento Butto fuori l'aria quando salgo Ispiro quando scendo Vai E otto E sette E sei E cinque E quattro E tre E due Ancora otto E otto E due Ancora otto E E due E tre E due E due E due E due E due tengoli respiro lentamente ok ma non essere per via destra 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e cambio dall'altra parte e 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 sollevo le gambe 8 e 7 e 6 e 5 e 4 sollevo le gambe 9 e 7 e 6 e 6 e 4 e 3 e 4 e 3 e 2 e rimani su tengo sa 2, scendo una gamba alla volta, angolo del ginocchio sempre a 90 gradi e scendo, butto fuori, inspiro, salgo, piano piano. E' un po' di nuovo, e' un po' di nuovo. Ok, stendo la gamba destra, punta del piede verso il soffitto, gamba tesa, sempre sul colpito, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fai ancora 8, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultimo, e cambio gamba, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, vai ancora 8, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, di nuovo cambio gamba, tallone una spanna da terra, quasi, ok, così, apro, apro, chiudo, chiudo, sempre la punta del piede verso il soffitto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, seconda serie, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, cambio gamba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio gamba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, seconda serie, vai, e 8, e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, 3, e 2, e 2, e l'ultimo, ok, rilasso un attimo, sempre le mani dietro la testa, sempre le mani dietro la testa, fate finta di avere una perinata di sottolmento, solleviamo la gamba destra, gomito sinistro, ginocchio destro, e 8, e spingo, e 7, e 6, e 5, stendo per la gamba, e 4, e 3, e 2, e va in un'altra serie, questo braccio lo possiamo anche estendere fuori, e 8, e 7, e 6, e 6, e 6, e 6, e 7, e 6. e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e l'ultimo, e cambio gamba. e 3, e 4, e 4, e 3, e 4, e 4, e 4, e 3, e 2, e 2, e vai la seconda serie, e 8, e 7, e 6, e 5, e 6, e 5, e 6, e 6, e 6, e 6, e 6, e 6. Ultimo, di nuovo al centro, tutte e due le gambe su, avvicino, allontano, spingo. Non aprite troppo le ginocchia quando si avvicinano al petto, vai. E spingo, su bene sempre qua. Ancora dai, resistiamo. Ancora dai, e otto, e sette, e sei, e cinque, e quattro, e tre, e due, e vai. Fermi lì per un istante, tengo, tengo. Punto di piedi verso il soffitto, di nuovo e alterno, destra e sinistra. Una leggera inclinazione, leggera, tengo. Vai, ancora. Fermo la gamba sinistra, solo destra. Giù e su. Vai. Lento. L'ultimo. e cambio. E cambio. Ancora. Tutte e due alternate. No. 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 Vai, vai. Vai. Vai, tengo. dai ultimi otto dagli ultimi 4 e 3 e 2 ok rilasso un attimo c'è una gamba allungo bene anche qua a punta del piede verso di voi talone verso il soffitto avvicino cambio tiro ok tiro dai accucciate favore spingo bene cambio ok braccia dietro la testa spingo bene con il tallone e allungo ok ci portiamo sul fianco apro le gambette e giù bene rilasso le spalle e piego i gomiti cambio cambio ok e abbiamo finito scusate l'incursione canina ciao a presto